Il progetto è un progetto che serve a far rinascere la mondanità da Cineala. Da oggi, da questa settimana fino a tutto settembre, con serata conclusiva d'ottobre, c'è un progetto che si chiama Vivaci. Questo progetto prevede che intanto è stato fatto da tutti, da 15 o 16 ristoratori, un progetto portato avanti da ragazzi, quindi una cosa bella, una cosa per far sì che voi il mercoledì, come il venerdì, come il sabato, non andate più a Catania, perché avete da fare da Cineala, perché da Cineala c'è una bella musica, ci sono delle belle serate e c'è tanto di più. C'è bella gente, diciamolo. Questi 5 o 10 euro di benzina ve li facciamo conservare, li spendete da noi. Quindi, a partire da questo mercoledì, apre il Times Coffee con Spritz Rock. Viva Cineale! Un amico mi dice, viva Cineale, sempre. Noi ci abbiamo investito tutto su Cineale, anche l'anima. Quindi sono 16 locali e voglio dire un grazie, scusatemi, non c'è politica, non c'è nient'altro. Voglio dire grazie ad Alessandro Caristia, a Gabriele Cavallaro e a Roberto Parvacallo. Sono coloro che hanno messo insieme 15 ristoratori per creare un movimento di Cineale, nuovo. Adesso si fa sul serio. Adesso nessuno può più fermarci, perché siamo tutti contro chi non ama questa città. Perché chi non ama questa città, vuole che questa città dopo le otte dorme. Invece no, 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 Claudia, signora Bella, questa città dalle otte in poi si risveglia. Quindi, divertiamoci in aspetto mercoledì per il primo appuntamento qui e poi avremo un percorso che curerà fino a settembre. Auguri, Cineale, auguri a tutti. Auguri, 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 auguri